Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire, non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. 10 racconti di solidarietà e aiuto concreto, storie ricche d'amore, riscatto, coraggio e cura, storie di persone che donano e che ispirano a costruire una società inclusiva. Una mano a chi sostiene. Storie. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. 10 racconti di solidarietà e aiuto concreto, storie ricche d'amore, riscatto, coraggio e cura, storie di persone che donano e che ispirano a costruire una società inclusiva. Una mano a chi sostiene. Storie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La civiltà dell'amore. Fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Benvenuti a questo incontro che obiettivamente è un po' speciale perché il tema di oggi è un tema non comune e le persone che ne parleranno non sono affatto persone comuni ma sono persone straordinarie. Vogliamo parlare di qualcosa che incrocia due mondi. del resto il meeting è un luogo dove si incrociano mondi diversi, dove si incrociano persone e storie che diventano motivo di amicizia e motivo di una prospettiva. E così credo che l'incontro di oggi sia già iniziato perché Luca e Juan José non si conoscevano ma vi posso assicurare che nell'ora passata abbiamo già, come dire, scoperto l'ampiezza di quello che questo tema ci mette davanti agli occhi. Stiamo parlando di fisica e letteratura, due mondi apparentemente lontanissimi, possiamo dire obiettivamente lontani. Non siamo qui per confondere questi piani ma per trovare e scoprire le risonanze comuni che questi modi di parlare del mondo, della realtà portano con sé perché sono approcci che si rivolgono a domande diverse. Non possiamo fare una confusione ma nello stesso tempo siamo curiosi di cogliere l'origine e la prospettiva che questo incontro tra questi due mondi diversi può gettare sul nostro sguardo al mondo. E quindi io semplicemente inizio presentando i due ospiti di oggi che sono un grande fisico e un grande scrittore entrambi con una sensibilità particolare rispetto a questo incrocio. Io ho l'onore di essere amico di ciascuno di loro da tanti anni e quindi conosco bene quanto per loro questo tema è vivo. Anzi devo dirvi anche questo, che questo incontro non è che nasce con l'idea di fare un incontro su fisica e letteratura ma nasce da loro, da questo dialogo che finora è stato implicito e oggi diventa esplicito di questo interesse, di questa dimensione ampia che ciascuno di loro vive. Luca Doninelli, molto conosciuto dal meeting ma è molto noto e apprezzato in Italia come uno dei principali scrittori sulla scena. Nel 78 ha conosciuto Giovanni Testori che per lui è diventato un punto di riferimento fondamentale e anzi recentemente Luca Doninelli ha scritto un saggio autobiografico che si intitola Una gratitudine senza debiti che è proprio dedicata a Testori che in questo meeting viene ripreso nei vari momenti, compreso il bellissimo spettacolo che è a lui dedicato. Lui, Luca, ha scritto diversi romanzi, cito solo quelli che hanno avuto delle riconoscimenti particolari ma la lista sarebbe troppo lunga, la revoca, la nuova era e le cose semplici premiato nel 2016 col premio Campiello così come la revoca nel 92. E' importante, Luca sta per uscire con un nuovo romanzo, giusto? Non so se manca un mese, due mesi ma sta per pochi giorni che si intitola Nero Fiorentino e quindi credo che saremo tutti curiosi di questa nuova lettura. Ecco, volevo anche citare il fatto che Luca Doninelli insieme a Giacomo Poretti e con Allevi ha fondato il Teatro Oscar che è una realtà milanese molto viva e bellissima. Quindi grazie Luca per essere qui, un applauso. Juan José Cadenas è professore di fisica della Fondazione Iker Basque del Donastia International Physics Center a San Sebastian. Juan José è uno dei principali esperti sulla fisica dei neutrini sono le particelle più sfuggenti che noi abbiamo in natura e a questo ha dedicato gran parte della sua brillante ricerca anche lui ha ricevuto vari riconoscimenti tra cui quello ottenuto nel 2016 per un esperimento che si chiama K2K e T2K sono dei nomi un po' strani ma che hanno avuto importanti risultati sulle oscillazioni dei neutrini di cui forse non entreremo oggi tanto nel dettaglio ma sono delle cose straordinarie appunto è anche stato ed è insomma il fondatore e il PI, il spokesperson dell'esperimento NEXT che sta cercando di dimostrare anche qui una proprietà strana dei neutrini cioè che il neutrino è anche l'antiparticella di se stesso il neutrino secondo Majorana ha questa singolarità tra le particelle elementari ecco Juan José è anche uno scrittore ha scritto romanzi nonché poesie, poemi non sto anche qui a citare tante cose dico che anche in questo caso ci sono ben due pubblicazioni che sono in arrivo uno è un poema Out of Itaca scritto in English, in inglese e l'altro è La terra della fine del mondo ecco quindi abbiamo l'onore, il piacere di dialogare con voi il dialogo che appunto come dicevo è già iniziato con sovrabbondanza di energia poco fa e magari chiedo a Luca di incominciare questo dialogo Un applauso a Juan Buongiorno a tutti io parto dalla curiosità che mi ha sempre mosso nei confronti di un campo che non conosco se non così molto superficialmente che è il campo della scienza e della fisica e della ricerca scientifica un po' perché negli anni della mia formazione scienza e poesia scienza e letteratura venivano viste come due cose che non c'entravano niente una con l'altra cioè la scienza si occupa dei fatti quindi della verificabilità dei fatti della ripetibilità dei fatti questo era quello che si studiava a scuola la letteratura si occupa dell'animo umano delle emozioni dei sentimenti dei sogni eccetera io poi col tempo ho sempre trovato riduttiva questa idea non perché come dicevi tu Marco prima non esistano delle distinzioni che vanno mantenute e che sono fondamentali no? ma perché credo che nell'esperienza come dire che muove un uomo a scrivere una poesia a scrivere un romanzo ad affrontare l'oggetto della sua ricerca scientifica ci siano dei punti dei punti comuni no? già il fatto che la realtà ti ferisce ti ferisce in quella tristezza fondamentale che appartiene a tutti noi anche se la mascheriamo no? per cui la realtà come dire non la famosa domanda qui d'animo satis cioè cosa 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 è cosa ci basta no? e il fatto che una bellezza una novità uno spunto ci entusiasmi no? ci colpiscono ci feriscano per cui noi poi dobbiamo lavorarci intorno no? e questo è la grande il grande apporto secondo me è un grande apporto che sia gli scienziati che niente di grave spero che sia gli scienziati che i poeti che gli scrittori porta al mondo cioè come era un vecchio titolo del miti no? siate realisti chiedete l'impossibile no? e l'impossibile è quello che chiediamo è quello come dire ecco e a me quello che ho sempre invidiato degli scienziati è l'idea della precisione cioè come per esempio lo scienziato una volta fissata un'intuizione un punto di partenza ha bisogno di calcoli di misura cioè il lavoro credo sia soprattutto poi quello nel punto di vista della quantità cioè tu fissi un'intuizione attraverso un enorme lavoro ma dicevo ma questo è anche il lavoro che fa il poeta cioè se io racconto adesso sto leggendo un romanzo dove a un certo punto c'è un incidente dove un'automobile un'automobile prende dentro un motorino e c'è il motociclista che fa un volo e è un bambino testimone di questo no? che poi è cresciuto è diventato grande no? e sempre più col passare degli anni si rende conto com'è importante il colore di quell'automobile com'è importante il tragitto che ha fatto questo povero motociclista nella sua caduta no? cioè come fissare una cosa che ti ha ferito è tutto il contrario dell'idea che le cose sono come ognuno pare no? tant'è vero che poi la poesia ci colpisce proprio per l'esattezza diciamo il grande poeta non è uno che resta nel vago no? e io penso sempre per esempio a non so al sabato del villaggio di Leopardi che lo conosciamo penso un po' tutti quando parla di questa vecchierella dice novellando viene del suo buon tempo quando ancora sana e snella ella si ornava e solea danzare la sera intra di quei che ebbe i compagni dell'età più bella a me colpisce sempre questo intra perché Leopardi con una preposizione ci dice che ballo facevano quindi non era un ballo non ballava solo con loro ma era evidentemente una gavotta un ballo preciso come si quando Clemente Rebora inizia la sua poesia sul piopo dice vibra nel vento con tutte le sue foglie il piopo severo ma vibra è importante perché è il piopo che vibra perché il platano non vibra no? e e e e questo è quello che mi ha sempre colpito poi dei grandi scrittori dei grandi poeti dei grandi artisti cioè questa capacità di fissare la ferita che la realtà produce in noi in una visione che è difficile perché è lavoro è lavoro e e e quindi diciamo non è non è indifferente che l'automobile che ha investito la motocicletta fosse rossa e di quel rosso lì di quel preciso rosso lì no? e questo è all'origine proprio della testimonianza cioè noi siamo testimoni di quella cosa lì no? quando San Giovanni dice ciò che noi abbiamo visto e udito lo annunciamo a voi ma non è vero perché lo abbiamo visto e udito lo abbiamo visto e udito perché è vero no? ecco questa 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 cosa mi ha colpito ho sempre invidiato voi scienziati perché questo è diventato il vostro lavoro no? allora volevo chiedere anch'io a a due grandi scienziati a lui solo lui beh se se devi dire qualcosa cioè non è che non è che ci dispiaccia no? e come come vivi tu poi tu che scrivi anche romanzi oltre 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 a fare ricerca ecco questa questa questione di questo impatto che io chiamo intuizione forse non è neanche la parola giusta come lo realizzi? grazie Luca buongiorno a tutti per cominciare devo a dire due parole nel mio discarico lui parla italiano lui parla italiano io parlo un'approssimazione all'italiano comunque è un'approssimazione imparata da molti anni di lavorare con italiani per quello scusi faccio quello che posso è molto interessante questo che dici la necessità del dettaglio in letteratura la macchina era rossa è anche molto interessante quando parli del fatto che la necessità di scrivere la necessità della letteratura avvieni ultimamente della ferita che abbiamo dentro quando si parla di bellezza si parla sempre di dolore secondo me io ho cominciato a fare scienza per le ragioni equivocate per le ragioni sbagliate perché pensava che la natura mi dareva un'alternativa a questa tristezza a questa ferita diciamo come tutti e anche nella mia visione del mondo come poeta era chiarissimo per me il fatto era chiarissimo per me il fatto che cercare di capire l'anima umana capire noi implicava necessariamente questa ferita questo dolore io mi diceva va bene per l'universo infatti è un posto bello è un posto logico capire l'universo mi porterà gioia mi porterà felicità il processo anche di capire l'universo mi porterà felicità e così mi scappo un po' di questa ferita dunque è per quello che dico che inconscientemente ho cominciato a fare scienza per le ragioni sbagliate per trovare felicità calma tranquillità un universo logico un'esplicazione e non darmi via fare soffrire le poeti lasciarmi tranquillo mi spiace dirti però che io ricordo che cominciai da ragazzino a voler fare l'artista a fare cose eccetera perché pensavo che questo mi avrebbe portato più fortuna con le ragazze quindi qui questo è davvero infatti io ti ho detto per la razione per fare scienza da me era trovare questa felicità invece la razione per scrivere romanzi è che non era molto bello da giovane e così cercava di guarda non sono molto bello però guarda questo che ho scritto esattamente come te esattamente come te sì bello o poeta comunque quello che per me è stata una sorpresa c'è stato il fatto di scoprire che il conoscimento scientifico anche ti produce questa ferita questo è il dolore è un dolore strano è un dolore è un dolore che ha una componente enorme di piazzere però anche la scrittura ha questa componente enorme di piazzere questo arriva così quando uno comincia a fare la scienza è giovane è ingenuo si dice è troppo in fretta dunque i primi anni non hai nessun problema stai lavorando come un pazzo non hai il tempo per riflezionare per pensare e così vai avanti 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 lavori impari il mestiere non pensi troppo un giorno ti fermi io ricordo esattamente infatti il giorno dove questa natura mi ha ferito dicendo io lavoravo a Giappone all'epoca aveva 40 anni aveva la mia figlia no aveva 44 anni il mio figlio aveva 4 anni e il mio grande amico Paco Salinas poeta spagnolo era morto due settimane prima all'età di 50 anni comunque io era triste però diciamo la tristezza è una cosa e gli utrini sono l'altra va bene questa c'era una notte che io ero in shift diciamo era in carico di guardare il rivelatore stavo guardando i conti di neutrini che arrivavano e mi è venuta questa idea questi neutrini hanno attraversato tutto l'universo questi neutrini che sto vedendo adesso sul mio rivelatore in questo preciso punto hanno stato per milioni di anni in giro per l'universo e questo è io che sono qua in terra per alcuni anni e sto in grado di vedere questi animali che mi portano un messaggio misterioso che mi dice qualcuna cosa di un universo enorme di un universo bellissimo ed è un universo freddo che apparentemente non si preoccupa di me dunque questa tragedia mi ha colpito di una maniera così bestiale pure di più che tutti i miei giochini di romanzini che faceva per piacere le ragazze dunque è qui che ho scoperto che c'è una similità tra la scienza e la letteratura tutte le due cercano di esplicare questa bellezza che si colpisce che si fa male ma adesso poi vedete che ormai la ruota ha cominciato a girare e non c'è bisogno di ma mi ha colpito questo tema della ferita no forse si può anche dire vi domando no questa ferita è qualcosa che bisogna in qualche modo accettare forse chi fa scienza chi fa poesia e tutti noi che in qualche modo qualunque cosa sia la nostra occupazione diciamo abbiamo una sensibilità alla realtà c'è un tempo in cui questa ferita questa presentimento di qualcosa che è oltre no quello che posso controllare che è anche una bellezza come dicevi tu è insieme ferita e bellezza c'è un tempo in cui questa cosa va tenuta aperta va tenuta aperta perché noi secondo me abbiamo un po' la tendenza noi non poeti e non scienziati cioè la parte un po' statica della nostra umanità è quella di chiudere questa ferita o no esempio scientifico no pensa proprio dall'interno della struttura della nostra conoscenza del mondo il dualismo onda corpuscolo è impressionante o no è una ferita scusate cioè è meglio che ferisci anche loro cioè uno si immagina la particella elementare come dicevi tu per avere calma pace in qualcosa che finalmente si capisce bene no l'idea del materialismo sì o no cioè che alla base di tutto ci sono delle cose che sono gli atomi o le particelle elementari che finalmente capiamo cosa sono e su quello si costruisce tutta la realtà è la è la realtà ci è venuta incontro dimostrando la profonda falsità di questa idea semplicistica no tanto che si è capito osservando la realtà che quella che noi chiamiamo particella non è riducibile a quell'immagine che noi abbiamo di particella anzi è qualcosa che non è comprensibile non è visualizzabile ciò che una particella elementare è perché sia un corpuscolo sia un'onda potremmo un'altra volta approfondire questo tema o l'oscillazione dei neutrini per venire nel tuo campo ma quello che voglio dire adesso mi taccio per lanciare a voi la questione che cosa ci vuole per tenere aperta questa ferita no perché uno potrebbe dire una delle due è sbagliata o il corpuscolo o l'onda è sbagliato che è la logica del mondo cioè quella di arrivare a un punto di chiusura e invece c'è un tempo che può essere lunghissimo in cui io credo un poeta e un fisico devono accettare questo disagio questo disagio nei conti della realtà no no ma il fatto che i conti non tornino è la prima come dire è il primo input credo di qualunque atto di conoscenza io ho un amico che è un grande giornalista a cui piace fare i racconti farmi vedere che tutto torna dopodiché questo mio amico passa gran parte del suo tempo ascoltando musica no perché sa benissimo che non è vero quello che dice ma deve dirlo perché è il suo mestiere far quadrare così la Miloni ha fatto questo poi questo eccetera perché Biden perché eccetera eccetera questo è il mestiere però non è non è così io la prima la prima risposta che mi viene da dare alla tua domanda è il fatto che per poter tenere aperta questa questa provocazione della realtà che non si lascia raccontare in termini esaurienti questa questa cosa si deve comunicare cioè io come dire la caratteristica di questa inquietudine è il suo dilatarsi adesso spiego per molti anni io ho insegnato in un liceo artistico estetica ricordo che la maggior parte delle volte la prima lezione quando entravo dicono lei è estetica il bello ma sa tanto non è bello ciò che è bello è bello ciò che piace quindi cosa ci viene a fare queste lezioni io elaborai non subito all'inizio mi trovo un po' in difficoltà poi elaborai questa risposta semplice che il problema non è l'oggetto dire mi piace dire è bello può essere la stessa cosa ma la questione è un'altra prendiamo l'enunciato non so dico mi piace Madrid se io dico a voi che mi piace Madrid è una comunicazione completa cioè voi prendete atto che a me piace Madrid è finita se io dico che Madrid è bella e voi per verificare questo dovete chi non è andato a Madrid cioè uno c'è andato dice no no ha ragione che bello è solo il Prado lo sto dicendo perché sto provocando il mio amico Giuseppe quello che mi porti al Prado e mi faccia la guida ma come dire chiama tira in ballo il giudizio bello dire che è una cosa bella tira in ballo la sua comunicabilità cioè il fatto che questo lo dice Dante mostra se si piacenta chi la mira che dà per gli occhi una dolcezza al core che intender non la può chi non la prova cioè è richiesto che tu faccia l'esperienza che io ti racconto affinché tu possa verificare se è vero o no quello che ti dico io ho notato nella mia vita che questo cioè se penso solo al mio incontro con Giovanni Testori è stato come dire dilatarsi di un incontro di un'intuizione che avevo avuto io con una persona molto più grande di me molto più geniale di me che mi ha fatto vedere la portata enorme mi ha rivelato il significato più grande per cui io penso che la prima una delle prime cose che tiene aperta la fritta è che tu sei hai la necessità come dire di un atto di condivisione no la bellezza non è qualcosa di totalmente solitario solipsistico eccetera ma è un'esperienza che noi possiamo condividere no che tu mi puoi raccontare eccetera perché se no da soli secondo me è vero che noi almeno per quanto riguarda me poi magari un genio no però che operi una riduzione si va bene così si va bene corpuscolo si va bene o onda onda e così invece trattenere questa inquietudine è un'opera è un'opera che ci riguarda insieme a me mi piace molto questo che dici perché secondo me l'idea di bellezza e anche si può approssimare uno dal punto di vista scientifico arriva c'è una una frase connota di c'è il gruppo The Doors voi lo conoscete quelli ragazzi della mia età conoscendo tutti The Doors e loro dicevano ci sono cose note e cose che non capiamo e tra tutte le due in between ci sono The Doors there are things known and things unknown and in between there are The Doors giustamente questo come scienziati come diceva Marco all'inizio del secolo XX la fisica era quasi noiosa tutto spiegato teoria dei casi tutto lo capiamo particelle atomo bello era bello però era bello in un senso in un senso noioso in un senso grigio il grande edificio della scienza dopodiché arriva la meccanica quantistica e entriamo nell'epoca del casino nessuno capisce niente e questi anni dell'inizio della meccanica quantistica 1920 1950 diventano degli anni più produttivi del secolo XX perché perché la bellezza esattamente surge esattamente in between tra le cose che capiamo e le cose che non capiamo tra questi spazi che uno c'è la meccanica quantistica noi la sappiamo fare sappiamo fare i conti sappiamo fare gli esperimenti non è che non capiamo capiamo davvero la teoria quantica di campi ci permette di fare i calcoli con grossa precisione però questa immagine naif gentile dell'universo come un posto ordinato è tolta noi alla fine in profondità viviamo l'universo e capiamo che c'è un'ombra qualcuna cosa che si muove qualcosa che si scappa e qui in questi the doors in questi umbral e dove io trovo la bellezza mi sembra che è molto simile a quello che stavi dicendo te su un'angolatura leggermente diversa ma che c'entra molto con quello che state dicendo ne accennavamo anche prima c'è un aspetto di sintesi che mi sembra di cogliere in questi due modi di dire la realtà che è quello del poeta che in una terzina come Dante ha saputo fare racchiude un universo o che so Dirac o Einstein che in una equazione pochi segni in pochi segni dice quello che non è possibile dire con una quantità grande a piacere di libri scritti dopo che hai scritto tutti i libri che puoi scrivere ancora quell'equazione o forse quella terzina dice qualcosa di più perché c'è una sintesi questo mi impressiona molto non so che esperienza ne avete voi ecco come scrittore come scienziato questo 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 è interessante nel senso che per me effettivamente il primo momento mistico diciamo della mia vita come scienziato è stato quando facevo le studiante all'università e ho visto l'equazione di Dirac come tu sono sicuro che tu hai visto anche cioè l'equazione di Dirac si può scrivere in una riga infatti sono quattro simboli quando tu vedi l'equazione di Dirac e capisci e anche in pietra vabbè quando tu vedi l'equazione di Dirac capisci che questa equazione ti sta tu puoi svolupare quello che questi simboli dicono per capire il movimento degli elettroni tra un campo elettromagnetico quantisticamente dunque la quantità di informazione che questa equazione ha di maniera sintetica sull'universo e anche su noi è impressionante potremmo scrivere come dici te libri per esplicare questo quasi allo stesso momento e questo è interessante Luca all'epoca che stava studiando all'università ho scoperto i giapponesi e i famosi haiku giapponesi è una cosa che è bella di un haiku e che non puoi mosse una birgola senza cambiare il senso dunque all'epoca è diventato ossessionato precisamente con le idee della sintesi potrebbe essere che la scienza più che l'essenza della scienza alla fine è cercare di scrivere da una sola equazione quello il pensiero di Dio andiamo un po' siamo un po' ambiziosi messi questo è vero e la scienza vuole scrivere vuole descrivere il pensiero di Dio da una sola equazione la letteratura vuole scrivere il pensiero di Dio da un solo haiku è bella ma hai fregato ma io per fortuna si può anche partire dal fondo i grandi artisti i grandi poeti ci mostrano innanzitutto che la sintesi è una cosa che si dà cioè quando sono andato all'incontro col Papa il 23 di giugno prima c'era stata una visita alla collezione d'arte moderna dei musei vaticani e c'era quella che ce lo presentava che diceva continuava a ripetere che gli artisti sono importanti perché ci fanno vedere l'invisibile io ho capito subito che non era vera quella cosa lì nel senso che quello che gli artistici fanno vedere è esattamente il visibile cioè è quello che noi non vediamo perché noi siamo abituati sempre a vedere una cosa insieme a un'altra Hume mi sembra che abbia parlato molto di questo problema lui riduceva il concetto di causa ed effetto al fatto che noi siamo abituati a vedere che una cosa ne succede un'altra no? cioè se la macchina va contro il motorino il pilota del motorino quello che guida il motorino cade no? e per cui noi siamo abituati a vedere sempre ecco una cosa che hanno sempre fatto gli artisti è per esempio farci vedere che non è vero questo cioè che spesso una cosa va insieme a un'altra che noi non ci aspettavamo no? questo credo che sia quello che muove l'artista è il poeta cioè il fatto di come dire io penso sempre all'infinito di Leopardi che è la poesia più famosa e più importante della letteratura italiana ma non solo quella tante meravigliose poesie sono come io non penso che Leopardi avesse calcolato di scrivere l'infinito cioè è una situazione apparentemente assurda di quest'uomo che va a sedersi davanti a una siepe che gli impedisce di vedere quello che c'è dopo no? allora si domanda ma quello che io vedo con l'immaginazione è più o meno vero di quello che vedrei se guardassi il panorama che si vede da qui no? e e quindi lì pone pone in maniera radicale la questione dell'immaginazione di quanto gioca l'immaginazione nel nostro rapporto quotidiano con le cose no? è bello che poi si dilate come il vento odo stormil tra queste fronde io quello infinito silenzio a questa voce l'ho comparando e mi sovviene l'eterno eccetera no? è come dire è la sorpresa di cose che la realtà ti mette insieme no? e che nella nostra quotidianità noi diciamo beh queste cose non ci sono queste cose non stanno insieme no? per cui se può esistere un'equazione che mi racconta il pensiero di Dio io posso dire che è perché Dio mi mette dentro la realtà quotidiana gli elementi di questa equazione no? e credo che gli artisti e gli scienziati siano quelli che ci aiutano a dire a capire un attimo fermati guarda guarda questa cosa no? stai attento non 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 correre troppo ecco perché altrimenti il pensiero di Dio non potremmo arrivare a capirlo se fosse lui che fin dall'inizio ti dice sì è un'automobile ma è rossa ecco questo questo hai detto precisamente una cosa che hai detto essere attento l'artista doveva essere attento alla realtà e questo mi piace tanto nel senso che è casi per definizione che il scienziato doveva essere attento alla realtà che uno come scienziato doveva essere preciso e dire la verità nessuno dubbia quando il scienziato arriva con una teoria con un esperimento che questo è vero infatti dovremmo doviare perché la scienza non è mai vera è sempre un'approzzimazione alla verità è come il mio italiano effettivamente è un'approzzimazione all'approzzimazione però però invece la letteratura sembra essere un giochino quello un poeta può dire quello che vuoi non è vero non è vero il poeta e il poeta necessariamente dove descrivere con attenzione con precisione e con sintesi la realtà perché se no non sta facendo né poesia né letteratura sta mettendo parole insieme e secondo me questo è esattamente quello che fa il scienziato in questo senso c'è una connessione non solo di motivazione è una connessione metodologica non si può essere un buon scrittore non si può essere un buon poeta come non si può essere un buon scienziato se non abbiamo una ossessione ossessione con il dettaglio è questo no no io dico soltanto che questa quanto è importante quanto è importante un metodo che il metodo non è si fa così si fa così almeno in letteratura in arte non esiste nessun manuale che ci dice come si fanno a scrivere i romanzi e quando qualcuno ce lo insegna bisogna sospettare un po' uno va in corso di scrittura ecco gli incipit si fanno così ecco l'unica cosa proficua per uno che segue è non fare così no anche perché se vi dicono si fa così vuol dire che sono già stati fatti no e quindi quello che farete non sarà assolutamente nuovo per cui occorre occorre questa adesso mi sono già perso non so più no no io dicevo la sintesi è qualcosa che mi è data dall'esperienza la forza dell'arte del lavoro dell'artista è quella di tenerla di tenerla aperta è quella di cioè se noi vediamo per esempio mi ricordo una volta con un mio amico che diceva ma tu il famoso credo che lo conosciamo tutti il buon governo no di Ambrogio Lorenzetti no che c'è nel palazzo pubblico a Siena no se tu l'hai guardato e si ho detto l'ho guardato un miliardo di volte allora dice se tu l'hai guardato bene mi spieghi perché al centro del quadro ci sono due riquadri uno che dà in una in una stanza dove c'è un insegnante che sta insegnando che fa lezione quello vicino c'è un ciabattino uno che fa le scarpe lui dice se tu hai capito questo quadro saprai perché li ha messi vicini ecco questo è per dire il grande artista è quello come dire che conserva la sorpresa della sintesi perché poi il mio amico mi ha spiegato bene perché no che è un è un tenerla destra no per questo io dicevo se alla fine io arrivo al pensiero di Dio è perché Dio il suo pensiero me l'ha già detto fin dall'inizio no poi non so cos'altro aggiungere a questo se no che il mestiere è un po' questo poi e occorre una precisione enorme perché è quella cosa lì non è quella cosa che potrebbe essere un altro perché il bello di fare letteratura questo lo dico perché è bello fare scienza ma anche fare letteratura è bello è piacevole e una delle cose più belle è che in letteratura in poesia non ci sono i particolari no cioè non è che io descrivo lo fa lo fa manzoni magistralmente quando ci prende il suo personaggio più importante che è Lucia e ci dice solo come è vestita e come è pettinata no cioè quindi parlando del personaggio fondamentale del suo romanzo ci parla di dettagli no che poi sono fondamentali perché sono quelli poi che hanno anche fornito il materiale agli illustratori che sappiamo che erano fondamentali però è interessante il fatto che se io parlo di un uomo che cammina per strada e io che scarpe porta se ha la camicia o l'Apollo com'è il colletto della camicia com'è pettinato eccetera cambia il destino cioè la forza della letteratura è che ci impedisce di pensare che esistono i contorni no un po' come in un quadro cioè se io ho un ritratto no e non è che l'opera d'arte è solo il ritratto è tutto quello che c'è intorno dentro i confini del quadro che ha lo stesso valore no e e e la sintesi è quella perché quello che tu fai intorno è cioè pensiamo non so alla Mona Lisa che è il quadro più famoso del mondo e se noi non cerchiamo di leggere il paesaggio che c'è dietro io credo che facciamo fatica a a tirar fuori qualcosa di interessante continuiamo a parlare del sorriso della gioconda no perché è quella cosa lì dentro quell'immagine lì no se non so se torniamo sempre a parlare delle stesse cose no ma questo che stai dicendo nel dettaglio a me mi va bene un'altra volta perché la scienza si fa di molte maniere ovviamente e c'è un lavoro diario che non è troppo romantico vero arrivi tutto il giorno al laboratorio lavori 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 come quello che pica pedra no non è non un granché però questo lavoro scienziato ti permette di prendere i dati gli argomenti che hai bisogno per andare avanti però invece i grandi avanzi scientifici in teoria e in sperimentazione vienono sempre di uno che diventa così ossessionato con la con quello che sta bevendo con quello che ha cioè che tutto il mondo può avere Einstein aveva le stessi dati che tutti non è che lui aveva accesso speciale a dati che nessuno altro conosceva Maxwell aveva i dati che tutti Freeman aveva i dati che tutti però tutti quelli arrivano a fare un passo avanti a capire come l'universo è fatto sempre perché hanno questa ossessione con il dettaglio e il dettaglio che porta alla verità e questo mi ha fatto pensare una cosa che ha detto Luca quando parlavamo prima lui dice io stavo scrivendo un romanzo e da un punto dato mi sono fermato e non andava avanti non andava avanti non andava avanti non vedevo più non vedevo più la storia non gli veniva più l'idea perché? perché non si ricordava del colore della cravata avevo sbagliato il colore di una cravata sì ma ecco è così però scusami tu prima parlavi dell'ossessione dello scienziato ma prima sempre noi parlavamo della famosa virgola di Flaubert non credo che Flaubert è un famoso è un famoso aneddoto ma cosa hai fatto tutto il pomeriggio ho messo una virgola non credo che godesse tantissimo cioè fosse molto piacevole nemmeno quello e il giorno dopo cosa hai fatto l'ho tolta ecco però e pensa e pensa quanto quanto ci fa capire l'importanza di una virgola no? l'importanza del colore della cravata l'importanza del colore c'è un racconto di Tal Stoi mette a 20 pagine per parlare di una slitta che esce da un portone no? però leggetelo e capirete cos'è una slitta che esce da un portone ecco ecco cioè perché noi pensiamo di saperlo no? ma non è vero però allo stesso tempo c'è qualcuna cosa di altra che non voglio lasciare passare tutto quello sta benissimo però nel fondo del discoprimento scientifico c'è qualcuna cosa che penso sia molto comune anche con la poesia cerco di esplicarlo con un'immagine c'è questo grande giocatore di scacchi russo che eventualmente diventa pazzo e quello che si diceva di lui è che negli ultimi anni lui giocava scacchi dalla sua zella da solo infatti non giocava da solo giocava con Dio e lui era convinto di giocare con Dio e quello che questo è pazzesco è folia quando quando lui ti dice è giocato con Dio e abbiamo fatto come si dice tablas mareggio e quando la letteratura sorge viene ho giocato con Dio non l'ho vinto non mi è vinto anche a me abbiamo fatto parecchio e questa sorpresa questa sorpresa che non ti aspetti questo pazzo che gioca con Dio e fa parecchio è il segreto che il scienziato sta cercando tutta la sua vita giocare con Dio a scacchi e fare parecchio chiudiamo qui con Giacobbe e l'angelo no dicevo con la lotta di Giacobbe e con l'angelo no mancano otto minuti ma secondo me abbiamo raggiunto l'apice sì no credo che potremmo andare avanti anzi andremo avanti perché è un dialogo che non non si esaurisce qui molti punti di è una cosa nuova non mi risulta che sia mai stato fatto tante volte insomma almeno molti punti di fuga sono stati come accennati e credo che sia una provocazione grande no positiva per tutti noi perché abbiamo visto attraverso un dialogo così abbraccio non non particolarmente come dire preparato quanta quanta realtà c'è dietro a ogni sforzo a ogni tentativo serio di sguardo al mondo quanta realtà e per vedere questa risonanza no come l'abbiamo vista oggi qual è il modo no è il modo quello che ci hanno fatto vedere loro cioè quello di osservare quello che accade quando tu osservi il mondo cioè osservare se stessi in azione come diceva qualcuno no Don Giussani osservare se stessi in azione questo ti fa scoprire il rapporto che c'è con la realtà la natura del rapporto con la realtà fino al punto di scoprire risonanze tra mondi diversi tra modi diversi di esprimere quel desiderio quella ferita no quel dolore quella bellezza che c'è nel rapporto con la realtà quando la vuoi come dire cogliere nel suo sorgere ecco si può dire cogliere nel suo sorgere e sorgere vuol dire che diventa qualcosa che posso esprimere posso comunicare con una formula matematica con un verso di poesia ma ecco è stato per me ascoltandovi e partecipando con voi oggi come dire scoprire come a volte si parla di interdisciplinarietà che è una roba che fa morire dalla noia fa morire dalla noia perché manca di questa profondità manca di questo tentativo non di dire delle cose per unirle ma come dicevate voi di scoprire che la sintesi è data ma è data in un modo misterioso non è data come dire come un giocherellino che faccio io è qualcosa è la profondità della realtà ecco oggi è stato solo come dire un passo ma davvero credo anche io che ci sia tanto da scoprire sempre come dire nel godimento della diversità dei metodi non è soltanto che peccato che sono due cose diverse no è solo questo che rende ricca la realtà ma allo stesso tempo è questo che ti fa godere anche dell'origine comune ecco quindi io ringrazierei davvero Luca e la prossima volta partiamo partiamo da lì in azione esatto fammi dire una piccola cosa per finire prima questo che hai detto te è così vero che è possibile trovare questa connessione tra la letteratura e la scienza anche quando uno dei due ospiti non parla italiano è impressionante è un fenomeno collettivo di interpretazione simultanea secondo voleva dire un punto anche quando era giovane e cercava sempre di piacere alle ragazze con la mia letteratura ecco una cosa che hanno in cui ecco una cosa che è comune c'è stata una una particolarmente dura che mi diceva no tu sei un scienzato escettico a lei questa parte di escettico le faceva paura non le piaceva e voi con la vostra scienza avete per colpa vostra la rosa non è più bella lei era assolutamente ingazzata con me e con tutti gli scienziati in generale perché la rosa non era più bella perché aveva arrivato la scienza a dire che la rosa non era niente e quello io gli ho detto guarda beh la rosa può non essere bella però ci sono le super nove dopodiché ho provato a scrivere un poema dove cercava di fare la sorpresa della rosa e quella della super nove la super rosa la super rosa scusa volevo fare un finale un po' shakesperiano perché caratteristica di shakespeare è che quando ho finito lo spettacolo si va un po' in requieti cioè tu hai parlato di lì in azione perché mi piacerebbe continuare su questa questione guardarsi guardarsi in azione può riservare delle sorprese che non ci piacciono no? e forse è anche questo diciamo il motivo per cui quella persona che diceva la rosa non è più bella ma forse voleva mettere un po' le mani avanti perché comunque la realtà fa che paura scusate un finale un po' al sogno di una notte di mezz'estate Allora ringraziando di nuovo Luca e Juan José vi ricordo che il meeting che permette anche questi dialoghi abbastanza unici è qualcosa che tutti noi possiamo contribuire a sostenere ok quindi come sapete lungo tutta la fiera ci sono postazioni dona ora con il cuore rosso alle quali si può effettivamente donare e in questo modo sostenere attivamente questa cosa grande che è il meeting grazie a tutti e buona giornata grazie a tutti La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle costruite senza stancarvi mai, questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Storie ricche d'amore, riscatto, coraggio e cura. Storie di persone che donano e che ispirano a costruire una società inclusiva. Una mano a chi sostiene. Storie. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. 10 racconti di solidarietà e aiuto concreto. Storie ricche d'amore, riscatto, coraggio e cura. Storie di persone che donano e che ispirano a costruire una società inclusiva. Una mano a chi sostiene. Storie. Storie. Storie.